La libertà, non è più una morte, la libertà. Quando accende il morto per noi, chiedete. Quando accende il morto per noi, chiedete. C'è una roba, 14 medagliatori. Oggi è sempre la cosa, è tutto forte. La libertà, non è prezzo, è meglio andare oggi. E scelta la libertà. Oggi, non sono più sinistra, ma non è più. Divagate questa situazione. Divagate questa situazione. Andiamo lontano. Divagate questa situazione. Divagate, divagate, divagate.